A voi tutti ben ritrovati amici di Telerama, amici Salentini, il tempo è cambiato, è tornato a rinforzare lo scirocco, abbiamo avuto un generale peggioramento, cambierà di nuovo il vento nella giornata di martedì, infatti avremo il ritorno della tramontana in rinforzo, lo vediamo tra un attimo, il tempo sarà variabile con qualche apertura del cielo, molte nuvole soprattutto sul canale d'Otranto, gli ultimi scrosci di pioggia verso l'alba ma poi appunto i fenomeni si porteranno verso il canale d'Otranto, situazione abbastanza tranquilla poi nel corso della mattinata con cielo irregolarmente nuvoloso, basso il rischio di fenomeni, qualche fenomeno nucleo instabile dal mar Adriatico, quindi dal canale d'Otranto potrà avvicinarsi ai settori costieri adriatici, qualche nucleo potrà sconfinare anche nelle zone interne, tuttavia non sono previsti grandi fenomeni, il cielo resterà irregolarmente nuvoloso, quindi con qualche apertura del cielo, anche se poi nella seconda parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare, tant'è che in serata i nuclei sempre sul mar Adriatico e quindi sul canale d'Otranto saranno più convinti, lì ci saranno dei rovesci di pioggia probabilmente anche sul mare dei temporali e verso la sera, tardasera, nel corso della notte dei nuclei potranno avvicinarsi alle zone costiere e probabilmente riusciranno a sconfinare anche nelle zone interne. come detto il vento in rinforzo, soprattutto nella prima parte della giornata da nord, vento piuttosto sostenuto con temperature in generale calo, sia nei valori minimi che nei valori massimi. Mari, attenzione, molto mossi o agitati, soprattutto l'Adriatico.